Il Battesimo di Cristo, una delle opere più straordinarie del Bellini, conservato qui nel Tempio di Santa Corona, verrà restaurato insieme all'altare meraviglioso nel quale si compone grazie a un'opera di vero e proprio mecenatismo, grazie alla cantessa Caroline Marzotto, che nel primo anniversario del ricordo della morte del marito Paolo Marzotto ha deciso di fare un regalo a questa città. Le dobbiamo davvero dire grazie perché lei è stata generosa, ha voluto ricordare il marito anche perché questa è stata la prima opera che il marito le ha fatto vedere quando è venuta a Vicenza ed era un'opera alla quale era particolarmente legato. Ci sarà anche un concerto in loggia del Capitanato, martedì 25 maggio alle 19.30, un modo per ricordare Paolo Marzotto attraverso la cultura e la bellissima città che ancora lo ricorda.